Buon pomeriggio dallo stand della Proud Superior. Siamo qua con un'anteprima mondiale, la centesima anniversaria, fino a sopra. Centesima anniversaria del marchio, 1919-2019, che acceca talmente e veramente. Tutto argento. Anche il World Premier è come si può leggere il soggetto. È qualcosa di super argentato. C'è acceca ogni volta che ci passa davanti. Ma c'è la sella. La sella come passa. Cento, scritto anche qui. Nere e argento. Spettacolare. E ripeto, continuate a cercarne ogni volta che la... dalla Proud Superior, centesima anniversaria, nell'anteprima mondiale. Tutto. Ci vediamo il prossimo stand. vai